Una volta eliminato l'impossibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità. Lo faceva dire Sir Arthur Conan Doyle al suo personaggio più famoso, Sherlock Holmes, ed è una lezione ancora valida, perché scrivere un romanzo giallo equivale a risolvere un complesso enigma, mentre leggerlo è come mettersi alla caccia dell'assassino. Ed è proprio questo che faremo durante le lezioni, impareremo a scrivere e a progettare il delitto perfetto su carta. Lo faremo leggendo ed analizzando esempi di storie crime molto diversi fra loro, per studiare ed apprendere le tecniche dei maestri del genere, da Vasquez Montalban a Massimo Carlotto, da James Herroy ad Andrea Camilleri, da Agatha Christie a Sir Arthur Conan Doyle. In una storia crime nulla è lasciato al caso ed ogni ingrediente è dosato con sapienza. Io sono Paolo Roversi e vi aspetto il nuovo corso online della scuola Holden, istantanea di un delitto.